Accordo governo sindacati relativo agli aumenti pensionistici e le norme che regolano il pensionamento. Di questo e di altro ancora si è parlato oggi nell'ambito dell'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si è svolto nei locali di Via Generale Cascino a Gela. I lavori sono stati aperti dal coordinatore Orazio Ciascia. All'incontro erano presenti il segretario generale territoriale di Egrigento, Caltanissetta Eden, Salvatore Montalbano, ed il segretario regionale della Federazione Alfio Giulio. Credo che finalmente con questa intesa accordo, chiamiamola come vogliamo, tra governo e organizzazioni sindacali, Cigelli e Cisevilli sul tema della Previdenza, finalmente inizia un percorso virtuoso che riguardia sia i pensionati sia i giovani. Perché il segnale e il senso di questo accordo è un accordo che include e non divide, come ai mesi è fatto in questi ultimi anni, dividendo i giovani e gli anziani, come se gli anziani togliessero il futuro ai giovani. Con questo accordo c'è dentro alcune risposte che vengono date ai pensionati, come per esempio la non-taxiare, che non è altro che la soglia di defiscalizzazione che riguarda i lavoratori attivi, così come i pensionati. C'è la quattordicesima mensilità che riguarderà circa 1.200.000 persone. E molti di questi sono allocati nel nostro territorio, in Sicilia, nel meridione, dove il tasso di povertà è molto più alto, come per i giovani. Per esempio c'è la possibilità di ricongiungere i contributi a costo zero, cosa estremamente importante che aiuta per precostituirsi una pensione più equa e più giusta. Si può riscattare la laurea con costi molto inferiori rispetto a prima. Ecco, abbiamo incominciato a incidere su quella che era una riforma capestra, la cosiddetta riforma fornero che ha messo in ginocchio i pensionati e i futuri pensionanti. In ultimo il problema dell'APE, cioè la possibilità alle persone di andare in pensione prima dei famosi 66-67 anni che dice la riforma fornero. Chi ha alcuni anni di disoccupazione può accedere, ripeto, andando in pensione attraverso meccanismi che in questi giorni stanno definendo. Ecco, finalmente iniziamo un circuito virtuoso perché questa nostra terra, questo nostro territorio, sia siciliano sia nazionale, può uscire da questa condizione di crisi drammatica se il governo parla con le parti sociali. La donazione è una scelta che cambia la vita. È il tema che è stato dibattuto nell'aula magna del Liceo delle Scienze Umane Falcone Borsellino di Gela su iniziativa delle associazioni Dono, Fidas Adas, Admo e Adoces. Si è parlato di donazione di sangue, midollo osseo e cellule staminali da cordone ombelicale. L'idea che noi abbiamo voluto dare a questi ragazzi, sono giovanissimi, quest'oggi non sono ancora maggiorenni in gran parte di loro, è quello proprio di cercare di capire cosa vuol dire entrare a far parte nella società civile, cosa vuol dire diventare adulti. Diventare adulti non significa soltanto prendersi la patente per guidare la macchina, ma diventare adulti significa anche prendersi delle responsabilità. Un gesto di grande responsabilità è proprio quello della donazione del sangue e quindi noi invitiamo tutti quanti, chiaramente in questo caso l'abbiamo fatto con i ragazzi giovani, ma noi lo invitiamo tutta la cittadinanza, coloro che ancora non sono accostati al gesto della donazione, di avvicinarsi al mondo della donazione del sangue e a capire, a toccare con mano cosa vuol dire il benessere che pervade ogni persona nel momento in cui si va a donare sangue. Il dono deve essere cultura, il dono deve essere un momento importante della vita di ognuno di noi, essere altruisti e mettersi a disposizione degli altri e oggi il messaggio che abbiamo voluto far passare è questo. Siamo nelle condizioni di compiere il miracolo della vita, cioè ognuno di noi, soprattutto per quanto riguarda quello che mi riguarda il midollo osseo, ha la possibilità, perché magari è l'unico donatore compatibile al mondo con un malato in attesa di trapianto, l'unica possibilità che diamo a questo paziente è di riappropriarsi della propria vita. Lo possiamo fare solamente con un semplice prelievo di sangue, essere inseriti in un registro mondiale dei donatori di midollo osseo e aspettare che il bondio ci chiami, perché è un gesto straordinario. Nel corso dell'incontro lo sono intervenuti tra gli altri il dirigente scolastico Giochino Pelitteri e Rita Salvo, presidente FIDABA. Abbiamo partecipato insieme ai ragazzi del classico alla conferenza che ci ha trasmesso moltissime cose che ci possono aiutare, aiutando gli altri, facendo la donazione del sangue e del midollo osseo. Quindi un invito che puoi rivolgere ai tuoi compagni di scuola, ma anche agli altri istituti, a donare il sangue e donare il midollo osseo. Sì, giustamente per aiutare gli altri. Aiutare gli altri è una cosa bellissima. Se noi possiamo farlo con un minimo, che sarebbe la donazione, perché no? Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni3 di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. Si è svolta sabato scorso nell'auditorium del liceo classico Eschilo, diretto da Giochino Pelitteri. L'Uni3 è da circa vent'anni che svolge un importante ruolo nella nostra città e dà la possibilità agli iscritti di ritornare ad essere protagonisti nella società. Una società in continuo cambiamento per cui è necessario fornire loro gli strumenti per leggere criticamente la realtà. E quindi offriamo un'offerta molto variegata e ricca che appunto consentirà loro di aggiornarsi, approfondire argomenti, conoscerne di nuovi e per appunto raggiungere quelli che sono i nobili obiettivi fissati nello statuto dell'Uni3. Quest'anno l'Uni3 ha avviato numerosi corsi che partiranno da oggi. Oltre ai soliti insegnamenti, le lingue, storia e filosofia, scienze, informatica eccetera abbiamo per la prima volta un corso di giornalismo e comunicazione poi un corso di medicina. Durante l'anno si alterneranno i vari specialisti e daranno informazioni, faranno prevenzione perché è molto richiesta dagli stessi iscritti. L'iniziativa di quest'anno è aperta anche agli studenti. Quest'anno grazie alla disponibilità di docenti e dirigenti delle scuole superiori avremo la possibilità di incontrare studenti che frequenteranno durante il corso, in particolare il corso di giornalismo e comunicazione. Dottore, c'è un'iniziativa molto importante. Due pezzi dello Stato che si riuniscono, Procura della Repubblica Arma dei Carabinieri con la possibilità di avere il volontariato a portata di mano in questo caso carabinieri che già hanno svolto la prima attività negli anni e che vi danno una mano. Assolutamente sì, questa è un'iniziativa lodevole, di grande pregio perché dei carabinieri in pensione, in congedo con un alto senso dello Stato continuano a servire lo Stato e il bene comune attraverso questa forma di volontariato e dare una mano, una piccola mano naturalmente un contributo, ma per noi fondamentale per sopperire alle gravi carenze di organico che noi abbiamo, sia come personale amministrativo che come magistratura. Si legge questo protocollo che abbiamo oggi firmato in quell'ottica con cui anche lo stesso Ministero della Giustizia invita a sviluppare, a redigere dei protocolli d'intesa con determinati enti. Noi preferiamo fare il protocollo d'intesa come procura con l'arma dei carabinieri in congedo con l'Associazione Nazionale in modo da poter sempre mantenere nell'alvio dello Stato in quello che è appunto il bene comune e l'interesse di tutti noi di mantenere questi uffici sempre collegati al senso dello Stato. Da lunedì voi vedrete dei carabinieri in pensione che ci verranno a dare una mano nell'ambito naturalmente amministrativo nell'ambito di competenze che possono essere affidate a chi fa questo intervento di volontariato in favore dello Stato. Carabinieri tutta la vita? Carabinieri tutta la vita legalità tutta la vita giustizia tutta la vita il servizio nei confronti dello Stato è un valore alto da tenere alto e da sollecitare anche a chi oggi si trova giovane e ragazzo alla ricerca di una scelta ecco, scegliere lo Stato fa bene. Promessa mantenuta oggi nell'auditorium Virgile Argento del palestro Polo e Milani Giudici di Gela il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo ha consegnato i libri in comodato d'uso per le classi prime della scuola media alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. L'iniziativa rappresenta l'epilogo della manifestazione teatrale portata in scena qualche mese dietro all'Eschilo. Il ricavato dell'esibizione del Marchese di Ruvolito infatti è stato destinato all'acquisto di libri un esempio concreto di cosa sia veramente la buona scuola. Con l'aiuto di vari sponsor che io devo ringraziare è stato unito questo ricavato a un progetto che avevamo a scuola che si chiamava Amico Libro per il quale avevamo accantonato una sommetta quindi grazie al consiglio di istituti grazie al programma annuale che è stato sistemato in questo modo abbiamo potuto acquistare i libri direttamente dalle case editrici con uno sconto particolare e questi libri proprio li stiamo consegnando alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Che famiglie sono? Come ci siamo regolati? in pratica abbiamo fatto presentare l'ISEE insieme a una richiesta per certo l'ISEE è l'unico strumento che abbiamo a disposizione però sappiamo bene che nel nostro bacino i nostri ragazzi sono figli dei disoccupati dell'indotto della raffineria e venivano a chiedere continuamente di essere aiutati sicché abbiamo aguzzato l'ingegno e ci siamo inventati questa commedia che grazie ad Alberto Lo Scalzo grazie a Monica Bevilacqua e grazie a tutti noi di buona volontà è andata in porto. L'Istituto San Francesco ha altri obiettivi da raggiungere. Noi abbiamo acquistato i libri che valgono soltanto per un anno scolastico sicché alla fine dell'anno saranno restituiti e potremo accontentare i bambini di prima dell'anno prossimo e così per l'anno ancora perché il progetto è triennale e speriamo di non cambiare testi in questo periodo così che ne possano soffruire il tripro dei ragazzi. Una scuola quella diretta da Giovanna Palazzolo che si apre concretamente al territorio stiamo organizzando dei laboratori pomeridiani di scacchi di scrittura creativa aperti a tutto il territorio cioè a tutti coloro che ne vogliano soffruire sia bambini che ragazzini questo progetto dei laboratori è rivolto anche ai genitori che potranno frequentare gratuitamente che ho un team di insegnanti volontari che veramente altro che buona scuola è altro che bonus incontro con i detenuti del carcere di Contrada Balate a Gera sulla prevenzione del cancro al colon si è svolto ieri su iniziativa dell'AIRC la cui delegata gelese è Graziella Condello ha relazionato Pippo Leonardi responsabile dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Vittorio Emanuele La prevenzione è una cosa importante quindi con l'AIRC c'è questo progetto che va avanti da un anno ma anche l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha iniziato il progetto di screening nella popolazione generale fra i 50 e i 69 anni dal 2011 che va avanti nei prossimi mesi entro la fine dell'anno saranno inviati altri 6.000 inviti la prevenzione è importante perché il cancro del colon retto si può prevenire e quando c'è si può anche curare l'incontro di ieri è inserito nel programma di educazione alla salute informare per prevenire organizzato dalla sezione locale AIC quest'anno con il dottore Leonardo si va alla prevenzione secondaria analizzando quella che è la prevenzione del tumore del colon collaboreremo con lui e quindi con l'ASP per quanto riguarda il contatto dello screening nel carcere e attraverso questo rientra nel programma e nei progetti di prevenzione di conferenze nelle scuole che adesso cominceremo da gennaio in poi per informare e infogliare la gente a fare più prevenzione in tutti i sensi il direttore del carcere di Gela Gabriella Di Franco siamo destinatari di varie progettualità non finiremo mai di ringraziare di essere posti al centro di queste progettualità in questo caso è ancora più particolare perché promuovere la prevenzione nella scoperta nella ricerca dei tumori è una cosa fondamentale che speriamo possa essere promozione anche per le famiglie dei detenuti per le nostre famiglie è un problema trasversale una livella direbbe Toto Fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto si tiene permanente dinanzi al municipio di Gera per rivendicare i diritti degli animali e dei loro proprietari e protestare contro l'assoluta inefficienza della politica che ostacola l'attività indispensabile del volontariato uno stand informativo è stato restito dai volontari della Lida lo scopo è quello di far capire cosa si deve fare per legge per poter contrastare il randaggismo diffuso e chi omette di applicarla fra i problemi da affrontare ci sono i continui abbandoni maltrattamenti mancanza di sterilizzazioni nessuna area dedicata completa assenza di strategie danno erariale per una spesa annuale di oltre 700.000 euro che aumenta sempre di più siamo qui stamattina davanti il comune affinché l'amministrazione ci osservi e ascolti le nostre proteste le proteste dei cittadini gelesi e degli animalisti gelesi noi vogliamo che il comune costruisca il canile comunale come è previsto dalle leggi nazionali e regionali che inizi immediatamente le sterilizzazioni che questo ping pong tra ASP e comune dia luogo finalmente all'apertura del centro di sterilizzazione perché i cittadini sanno benissimo che il randeggismo oramai ha raggiunto dei picchi troppo alti e non riusciamo più a sostenere questo peso noi associazioni da sole non siamo aiutati dal comune non siamo aiutati dalle istituzioni in nessun modo anche per il centro di petterapia stiamo chiedendo che fine abbia fatto perché il comune ha speso 900 mila euro per ristrutturare questi immobili siti nell'ex mattatorio comunale e da un anno e mezzo sappiamo che i lavori sono stati conclusi ma il centro è chiuso noi abbiamo formato degli operatori potremmo dare dei posti di lavoro anche il canile comunale darebbe posti di lavoro per cui invece di regalare questi 750 mila euro all'anno ai canili privati di Caltanissetta sarebbe opportuno costruire la Gela dare un servizio ai gelesi arginare il fenomeno del randaggismo finalmente in modo adeguato e quindi diventare una città vivibile e civile rocco d'arma 50 anni laureando in scienze turistiche noto commerciante gelese il nuovo assessore della giunta messinese prende il posto del dimissionario Eugenio Catania titolare dell'agenzia viaggi Giri d'oro d'arma è stato presentato oggi nella stanza del sindaco al nuovo assessore componente del direttivo della confcommercio sono state assegnate le deleghe allo sport al turismo e alla polizia municipale fare il massimo con la massima umiltà con la consapevolezza che la nomina dell'ingarico appena ricevuto anche se da una parte mi inorgoglisce dall'altra parte mi fa riflettere su tutte quelle problematiche che attanagliano la nostra città devo registrare che la cosa che mi ha più colpito in assoluto è la voglia di fare a volte la voglia di fare non corrisponde esattamente con dei risultati ma per arrivare ai risultati spesso e volentieri occorre tempo la figura che va a completare la giunta messinese verranno affidate le deleghe che erano libere e che consentiranno di riprendere un percorso importante avviato dall'assessore di Catalania che ringrazio per il grande lavoro fatto però bisogna pensare al futuro bisogna pensare al futuro il futuro del territorio che passa anche dal turismo ed è per questo che la scelta è caduta proprio sul signor Dharma che di fatto è un esperto in ambito turistico dove lavora e che quindi può dare quel contributo di una professionista per poter rilanciare non a parole ma con i fatti il turismo nel nostro territorio oltre naturalmente ad avere altre competenze che gli consentono di poter gestire il territorio grazie alle sue specializzazioni per quanto riguarda la viabilità la mobilità sostenibile che serve per far diventare Gela una città che guarda al futuro con interventi che sicuramente non potranno essere immediati ma che nel medio e lungo termine potremo dare quelle risposte che tanti Gelesi si aspettano quest'anno con la legge sulla buona scuola si è istituito questo percorso di alternanza scuola lavoro i ragazzi hanno già realizzato questo percorso e oggi diciamo raggiungono il traguardo il giorno finale sia la consegna agli attestati ma io voglio dire più che altro che questo percorso di alternanza scuola lavoro si inserisce in un complesso migliore di istruzione nel senso che con la buona scuola si dà questa possibilità questo percorso è già stato istituito però il tutto deve contribuire a far sì che i ragazzi possano inserirsi nel mondo del lavoro in maniera migliore in maniera più facile e a questo proposito la scuola devo dire che è già aderito a un programma fixo che significa formazione e innovazione per l'occupazione la nostra scuola è una delle poche in Sicilia che diciamo aderito ha sposato questo progetto e da qualche anno in particolare quest'anno abbiamo istituito proprio lo sportello di placemente per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere la realtà produttiva del territorio e quindi dare possibilità alle aziende di conoscere le competenze dei ragazzi quindi quando le aziende selezionano i candidati sanno già dove vanno diciamo a pescare così dica se i ragazzi riescono a sapere quelle che sono le esigenze delle aziende il tutto diciamo che serve a mettere in moto diciamo questa procedura di alternanza scuola lavoro che poi diciamolo pure in Italia ancora questa fase duale non è assolutamente non si è realizzata mentre in Germania in Svizzera in Austria è già in atto e questo consente una diminuzione della disoccupazione che significa il sistema duale significa che i ragazzi fanno alcuni giorni di scuola e altri in aziende quindi consentono di acquistire delle specializzazioni quando escono escono con un diploma professionalizzante e quindi contribuisce alla diminuzione della disoccupazione di scuola di scuola Grazie a tutti.